Consistente l'aumento degli infortuni sul lavoro registrato in Lombardia a gennaio 2022, dove l'incremento è stato pari al 74,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nella Bergamasca si è passati dai 709 infortuni di gennaio 2021 ai 980 di quest'anno, facendo lievitare le denunce di 271 unità. Secondo i rappresentanti della Cisla e Lombardia, la causa sta nella costante carenza di prevenzione, che provoca quotidianamente feriti più o meno gravi insieme a troppe morti bianche. Analizzando i numeri si nota come rispetto a gennaio 2019, in epoca pre-pandemica, l'aumento si è pari a 40%, e quanto emerge dalle elaborazioni condotte dal Dipartimento Salute e Sicurezza della Cisla e Lombardia sulla base degli ultimi dati INAIL. Con la ripresa produttiva e dei servizi, gli infortuni sono aumentati anche oltre le possibili stime del tempo di lavoro. A gennaio 2022 gli incidenti sono stati 12.794 contro i 7.318 del 2021 e i 9.131 del 2019, quando ancora la pandemia non condizionava i ritmi delle attività produttive. Fondamentale invertire la tendenza contro l'insufficiente gestione dei rischi per mancata formazione e modalità lavorative sempre poco attente alla salute e alla sicurezza dei dipendenti. L'incremento registrato a gennaio 2022 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno riguarda soprattutto le denunce di infortuni in occasione di lavoro 5.291 in più rispetto a quelle di infortuni in itinere 185 in più. Analizzando quanto accaduto nelle province lombarde si nota una contrazione degli infortuni solo a Como e Sondrio, mentre tra i territori che hanno subito un maggior incremento di numeri ci sono i territori limitrofi con Brescia che è passata dai 1.025 infortuni del 2021 ai 1.907 del 2022, mentre a Milano sono cresciuti da 2.388 a 5.205. Sono inoltre risultate in crescita le denunce di infortunio per le lavoratrici da 3.374 di gennaio 2021 salgono a 6.909 nel 2022. Sette infortuni contro i 5 di gennaio 2021 hanno causato la morte del lavoratore.